La motivazione che ha spinto il seregusano Francesco Capodieci a collaborare con la giustizia fa parte di un documento che il pubblico ministero Alessandro Sorrentino della procura distrettuale antimafia di Catania ha consegnato in aula ai difensori degli imputati al processo Bronx, una copia del verbale in cui Capodieci spiega i motivi della sua scelta, quindi cambiare vita e dare un futuro ai figli e alla famiglia. Poi si assume la responsabilità dei reati consumati e pronto dice a chiarire per quanto lo riguarda le imputazioni ma anche per riferire notizie che hanno oggetto la posizione e le imputazioni a carico di altre persone nel procedimento Bronx. Nel verbale Capodieci ammette la propria responsabilità andando oltre rispetto all'organizzazione del traffico degli stupefacenti in relazione ai procedimenti Bronx 1 e Bronx 2, dice ammette la propria responsabilità con riferimento ai fatti che gli sono contestati e dice di essere in grado di riferire compiutamente sulle persone che hanno fatto parte del gruppo dal 2013 al 2018, sul volume d'affari, sui profitti dell'associazione, sui rapporti con il clan Bottaro-Ottanasio e altre organizzazioni malavitose e poi su coloro che rifornivano sostanze stupefacenti. Ancora sulle basi operative che utilizzavano per custodire e lavorare le sostanze stupefacenti, sui ruoli e sugli stipendi percepiti da singoli affiliati e sulle armi che il gruppo aveva a disposizione e su tante altre circostanze. Capo 10 è stato sentito al carcere di Bicocca a Catania il 21 gennaio dal PM Sorrentino alla presenza del Capitano Leccese e del Maresciallo di Salvo del Gico della Guardia di Finanza di Catania. Nell'ambito del processo Bronx 2, nel quale è stato anche coinvolto, l'audizione di Francesco Capo 10 avverrà all'udienza dell'8 marzo, giorno in cui inizia il processo con il rito abbreviato. Giovedì, invece, potrebbe essere esaminato nell'ambito del processo d'appello scaturito all'operazione antidroga denominata Bronx 1, dove in primo grado fu condannato alla pena di 23 anni. La Corte d'Appello di Catania dovrà però dapprima sciogliere la riserva sull'accezione sollevata dall'avvocato Domenico Mignosa che ha chiesto ai giudici di non ammettere la deposizione di Capo 10, atteso che il processo è stato definito in primo grado con il rito abbreviato.